Siamo con Herman Medrano e The Groovy Monkeys, giusto la pronuncia, quindi scimmie abbiamo provato a tradurlo, ma scimmie cantanti, scimmie che tracciano un solco, The Groovy. Diciamo un intraducibile, termini intraducibili, proviamo subito a presentarci, anzi se conoscemo come dite voi o non se conoscemo, ma io direi che non se conoscemo, quindi Herman, qui alla mia sinistra, presentatevi voi va, Yuri, Alessandro, Tec, Leo, Diego, Ugo, Emilio, ok, so che avete fatto un album, appunto non se conoscemo il suo titolo, qualcuno che ci vuole parlare in sintesi, diciamo, di questo progetto artistico? Beh, comincio io, poi magari aggiungo qualcosa ai membri dei Groovy Monkeys, non se conoscemo, fuori qua da maggio di quest'anno, 13 tracce, un genere che è tutto da scoprire perché sarà più funky, più reggae, più rock, non si sa ancora e vedremo gli ascoltatori cosa decideranno, tutto in lingua veneta e con numerosi ospiti, tutto rampato tra l'altro. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa, siete numerosissimi, per cui è difficile, sembra... Non c'è ogni ospite, canta nessuno di Alentor, ci sono ospiti da tutta Italia. Ah, ok, infatti avevo notato, facilmente, insomma, diciamo, notabili la cosa che è la partecipazione numerosa, diciamo, di ospiti, in particolare, diciamo, Caparezza per il brano super ebede, da questa amicizia da dove nasce? Beh, rispondo sempre io perché lo conosco da decina da anni, io e Tec suonavamo a insieme, apriamo i suoi concerti, quindi quando viene qui in Veneto, apriamo i suoi concerti ancora e facciamo... l'amicizia nasce dall'ambiente musicale, quindi dalla musica. Ok, ascoltando, diciamo, questo album nella sua... come posso dire... nella sua interezza, no? Quindi un album molto, molto complesso, sempre sull'album. Ascoltandolo, sì, insomma, si notano, si intravedono contaminazioni, funky, rock e reggae, ma voi come vi sentite di più in realtà? Diciamo che abbiamo ognuno un animo musicale diverso, ma non è vero, è vero, è vero... molto divertente, quindi non solo musica, ma c'è anche, insomma, del sano, come posso dire, divertimento, almeno, almeno noi l'abbiamo letto così, quindi una sana voglia di passare del tempo insieme, no? Ritornando un po' alle partecipazioni illustri, oltre Caparezza, di cui abbiamo già parlato, vediamo ospiti come Piotta, Roi Paci, Oliver Scardi, non so, aggiungetene qualcuno, voi sono talmente tanti... Passo, c'è Manu PHL, c'è Dellino Farmer... No, tutto questo per arricchire, diciamo così, i pezzi, no, prego, prego... Il giovanelo, anche sì. Ah, ok, sì, nominiamoli tutti poi, non vogliamo che... Il giotto potrebbe risentirsi. Esatto, e quindi anche per l'incolumità, diciamo così. Sì, esatto, per la nostra incolumità. Ecco, ok, quindi lo facciamo per voi e per noi, in questo caso. Ecco, tutto questo arricchisce di sfumature linguistiche, diciamo, un album fortemente veneto, perché la base, come abbiamo ascoltato, è il lingua veneta, per cui poi queste contaminazioni linguistiche portano, come posso dire, un qualcosa che definirei unico nel suo genere. Perché questa scelta? Perché unire l'Italia è stato difficile per 150 anni, noi cerchiamo di farlo con la lingua, almeno, e ci sono varie lingue in Italia che restano veramente delle lingue e non sono dei dialetti, sono delle proprie lingue, quindi le abbiamo prese e chi canta nel nostro disco abbiamo chiesto che canti nella propria lingua, anziché fare un italiano come solitamente fa. Quindi Piotta in romanesco, Dellino l'ha fatto in bresciano, Piotta in siciliano e Caparezza in molfettese o molfettano, non so come si dice. Il fatto di aver scelto il Veneto come lingua base del vostro gruppo è per voi, come posso dire, un limite o un'opportunità? O meglio, perché avete fatto questa scelta così decisa? È ovvio, è scontato perché siete magari veneti e così via, però insomma immaginando anche un futuro un po' più largo, geograficamente, cioè un impegno che vi porti in altre regioni d'Italia o in altri posti d'Italia. Questa vostra scelta, credete, possa essere un limite oppure è un'opportunità? Perché questa ricerca così importante, diciamo, della tradizione, in senso tra virgolettato? Per noi è un'opportunità per chi ascolta. In realtà l'ascoltatore si trova di fronte a qualcosa di nuovo perché solitamente si sente il napoletano nel cantato, il napoletano qualche volta, il salentino, c'è anche il sardo, le lingue che vengono più usate nella musica che troviamo già a disposizione, l'ascoltatore già le conosce. Il Veneto abbiamo due esempi, siamo noi che ci abbiamo provato adesso con un disco importante e Scardi con l'impiatura fresca qualche anno fa e quindi abbiamo una proposta che si mette nel panorama musicale accanto alle altre lingue. Quindi è un'opportunità in più per l'ascoltatore di imparare qualcosa. Oltre al fatto che comunque quando si ascolta l'inglese o altre lingue estere molto spesso non si capisce niente, quindi non vedo perché non proporre qualcosa di locale. Adesso io vi propongo un gioco. Ovviamente parlare dell'album sarebbe stato troppo semplice in maniera normale, quindi un gioco che vi coinvolge tutti. Vi faccio delle domande che richiamano il titolo dei brani, al quale ovviamente dovrete rispondere in maniera sintetica, questo è chiaro? Quindi sono delle provocazioni, degli aforismi piuttosto che delle idee che ci sono venute leggendo i titoli e ascoltando i vostri brani. Quindi iniziamo subito, poi risponde chi vuole senza nessun problema. Io mi astengo subito. Ok, quindi facciamo parlare loro. Ok, quindi non si conoscemo da quando? Chi vuole? È come Super Mike. Quindi non vi conoscete da sempre? Non noi. In genere? Noi stessi. Ok. Osa se vuoi? Se vuoi fare un salto in avanti devi osare. Ok. Se vuoi provare qualcosa di nuovo. Meglio Superman o Super Ebbe? Meglio Erbamba. Volver in... Erbamba. Volver in... Erbamba. Erbamba. Qua, questa è una domanda molto impegnativa ovviamente. Voi conoscete ovviamente la tracklist dell'album, quindi sapete già che cosa vi sto per chiedere. Ecco. Possiamo parlare delle campanze. È un segno, è un segno come disse Ceccherini. È quello che vi stavo per chiedere. Cazzo, voglio. Uno spot per il partito del Peo. Chi lo vuole fare? La miseria. Infatti il dio Ceccherini è apparso e ha fatto suonare le campane a festa. Sicolo spot, è alza la masca. Mi divido? Alza la masca, mi piace il piede. Ok. Quindi uno, due, tre e basta? Ok. Ok. Cicca in bocca o in tasca? Bocca, super bocca. Per terra, purtroppo. La maggior parte siamo fuoti. Ombre? Mezze piene o mezze vuote? Mezze piene. Piene, piene. Ok. Un'altra Venezia con i piccioni o senza? Incubo di tutti. Per forza è meglio. Come se dice venete, la merda fa scherzo. Oh, finalmente? Finalmente abbiamo... Avete fatto voi? Finalmente? Herman è zitto. Finalmente sto zitto. Sito fora per poco o per sempre? O sito fora, come mi hai detto prima. Per sempre. No, per se loro sono fuori, per se io per poco. Fugato, non siamo mai dentro. E quindi su e man questa è? Su e man. Su e man. Su e man. Ho tradotto in inglese, vedete? Su e man. Su e man. Su e man. Su e man. Su e man è per la gente che lavora. È un rafforzativo, diciamo, dello spot per il peo. In realtà l'avete messo per confondere un po' le idee. Ok, extra, extra, bonus o malus? Malus. Malus. Malux. 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 Qua io so che qualcuno di voi è di origine siciliana, quindi mi non so e se so? Se so è parte di mio. Giustamente non risponde. Ok, questa è, diciamo, è stata per noi molto complessa, nel senso che il top di ogni finto è fingere di non fingere. Perché? Questa chi me la spiega? Poi ascoltando il pezzo. Solo Erma. La frase originale è fare finta de non fare finta. Fin, non fare finta de non fare finta. Ecco, vedi. È di realtà complicato. Significa che chi è veramente bravo a fingere non occorre neanche che faccia finta di non fingere. Perché sta già fingendo in maniera naturale. Quindi è difficile. E ora il bonus. Il bonus ci voleva, ovviamente. Erma mi ha detto che voi regalate un bonus su iTunes, un brano. Fantasmi. Perché il bonus su iTunes? Perché il digitale, diciamo, il futuro è già il presente. Anzi, è evidente che chi si compra un disco in digitale è un acquirente particolare, quindi vuole un regalo e si sente coccolato con la canzone regalata. Quindi abbiamo messo una canzone regalata anche noi. Fantasmi. Infatti i fantasmi non c'è. Il fantasma nel disco in digitale c'è. Quindi nemmeno il brano omaggio, in realtà. Non c'è un brano omaggio. No, ma non c'è proprio il brano. No, c'è. È uno scherzo, ovviamente. Non c'è il prezzo, però c'è solo il titolo. Voi scaricate e pagate 0,99, però non... Diciamolo, in realtà. È pagato. No, è pagato. Perché è nello stile, diciamo, vostro. Per cui l'omaggio e lo scherzo era proprio questo. Quindi ovviamente ve lo diranno dopo aver scaricato il brano. Ovviamente è una battuta, è chiaro. Il pezzo c'è, il pezzo c'è. È anche molto bello, noi l'abbiamo ascoltato. Ok, ci vorremmo salutare nello stile B-Street. Per cui con qualcosa che voi volete dedicare al pubblico di B-Street. Il pezzo c'è. Il pezzo c'è. Grazie.